Carmè mi dice, ma Mienga, sei sempre ben vestito, sei proprio un bell'uomo, ma senti un po', ma ti piacciono sempre i filmini? E certo che mi piacciono, ma come ti piacciono quelle alte, bionde, con gli occhi azzurri, che hanno anche le zizze un pochettino come le scarpe di Alibaba, lì in su, così? E dice, mi piacciono quelle, oppure ti piacciono quelle tra cagnotte, un pochettino, un pochettino copila ruffato, che sono unte e bisunte? No, a me mi piacciono quelle che hai detto tu, bionde alte, con le zizze un pochettino con le scarpe di Alibaba, e allora brutto figlio di Bottana, perché vai sempre a scopare con mia moglie? Le piacevano le bionde, però si trombava la moglie, copila ruffata